A tu che sei il più grande ti regalerò il mio mulino, a tu che sei il mediano ti regalerò il mio muro e a te che sei il più piccolo ti regalerò il mio gatto, ma cosa me ne faccio? E' un gatto, ma cosa me ne faccio? E' un paio di stivali, che ti ogri e regalerò il mio mulino, a tu che sei il mediano ti regalerò il mio muro e a te che sei il mediano ti regalerò il mio mulino, a tu che sei il mediano ti regalerò il mio E' un po' 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 Grazie.